1 dicembre a bordo d'Italia, ieri abbiamo passato il meridiano di Greenwich e oggi c'è il sole, non tanta onda, approfittiamo per fare un'ispezione a prua che è un po' di giorni che non andiamo. Andiamo a prua, questa è la prima paratia a stagna, c'è un portello che ora è aperto e questo è il primo locale, non c'è quasi nulla dentro perché qui i pesi a prua non ce ne devono andare, c'è solo la farmacia e poche altre cose. L'altro compartimento e questa è la trash box. Vediamo se è tutto ok. Direi di sì. Tutto a posto. Da poco abbiamo la chiusura trasparente che ci protegge veramente, fa una specie di serra con un bel microclima qua dentro. C'è un gran tramonto. Ciao a tutti da bordo d'Italia.